Siamo in questo momento all'interno della prima delle sagrestie superiori della Cattedrale e quella che vedete qui allestita, appunto la mostra e i misteri della Cattedrale, con uno straordinario patrimonio di manoscritti che racconta di fatto la nostra storia. E da qui siamo partiti per costruire Custos, la mostra che andiamo oggi a presentare, che sarà allestita poi nei matronei della Cattedrale e vedrà la presenza di opere di artisti contemporanei. Il tema è proprio quello ispirato da questi manoscritti. Prima ancora di conoscere i contenuti, ciò che ci sorprende nel guardarli è come di fatto questo patrimonio sia pervenuto fino ai giorni nostri. Sono documenti che partono dall'VIII o IX secolo e che la Chiesa ha saputo custodire. Sono documenti che ci parlano di una storia molto antica. In modo particolare pensiamo ad esempio a tutto ciò che è stato trascritto dai monaci di Bobbio. Sono i documenti dell'età classica. Se oggi conosciamo molto di questo patrimonio è proprio grazie al lavoro degli amanuensi, dei monaci che nel Medioevo lo hanno trascritto di fatto per consegnarlo alle generazioni future. È una cosa che in modo particolare ci colpisce come questo patrimonio così delicato, così particolare. Per cui parliamo di pergamene, facili all'incendio, facili all'attacco degli agenti atmosferici, facili all'attacco di insetti. Ecco, come questo straordinario patrimonio sia arrivato ai giorni nostri. Di fatto la Chiesa appunto ha saputo custodirlo, ha saputo conservarlo, proprio con l'intento di trasmettere questo racconto, trasmettere questa storia. Qui ci sono di fatto le nostre origini, le origini della comunità piacentina e se appunto sappiamo oggi da dove veniamo è proprio grazie a questo lavoro importante che è stato fatto in ordine alla custodia, in ordine alla conservazione. Ci troviamo in questo momento nel sottotetto del Matroneo Sud, qui davanti a me, sotto di noi l'altare della Madonna del Popolo. Questo sarà il luogo che dal prossimo lunedì, il 16 aprile, ospiterà Custos. Una mostra curata da Carlo Francou, progetto grafico e l'allestimento degli spazi di Gianluigi Tambresoni. Qui esporranno 10 artisti contemporanei su questo tema appunto del custodire. È un tema come abbiamo già detto in continuità con la mostra sotto, quindi con questo allestimento che espone questi straordinari manoscritti che raccontano tutto il Medioevo della nostra città e in continuità appunto con questo allestimento qui una versione contemporanea che porta in luce altri temi sempre legati a custodire. La custodia del creato, la custodia della terra, la custodia dell'ambiente, la custodia delle cose care di fatto. E quindi in un certo senso anche il tema dell'amore per gli altri, per le cose che abbiamo intorno. E questi dieci artisti saranno, queste opere saranno allestite su dieci libri, dieci pannelli che saranno proprio qui intorno a me, una sorta di ferro di cavallo in tutto questo spazio e al centro di questo spazio un grande Cristo, un'opera di Mario Branca, Cristo quale espressione massima dell'amore verso gli altri. Quindi al centro di questo Cristo, al centro di questa calotta, sarà sospeso questo Cristo, sotto, quindi questo diventa quasi una sorta di Golgota, qui sotto andremo a disporre delle colonne che appartengono ancora ai restauri scalabrignani, quasi questa idea di questo tempio squarciato, e sulla calotta invece frontale andremo a costruire una scaletta, quasi un'esperienza ludica, ma che ci consente di salire su questa calotta opposta, guardare la città dall'alto, in modo particolare i quattro campanili ottagonali, e voltarsi verso questo Cristo per ammirarlo al meglio. Si sale poi verso la cupola, quest'ultimo tratto di scala che ci porta verso la cupola, e raggiungiamo l'ultima delle opere legate a questa mostra, un'opera di Giorgio Milani, una performance realizzata qualche anno fa, dove un libro, un poetario, viene bruciato. Questa diventa la negazione di tutto quanto detto finora, e in qualche modo ci porta in una dimensione diversa l'idea di fare Night 451, dove c'è un tentativo di annullamento del passato attraverso proprio questo gesto del bruciare il libro. Quindi tutto questo davvero diventa un percorso che ha una coerenza assolutamente molto particolare, con quest'opera ultima che diventa estremamente provocatoria, e quindi si parte da sotto con questo gesto sommo del custodire, del farsi custode, per arrivare in alto fino alla cupola, dove invece tutto questo in qualche modo è negato. Ecco, questa mostra resterà poi aperta per tutto il periodo di durata di Misteri della Cattedrale, quindi fino al prossimo 7 di luglio. In qualche modo all'interno del tempio più importante, più significativo della città, la cattedrale, continua un messaggio che viene attualizzato attraverso l'arte contemporanea. È un continuo dialogo tra questi contenitori antichi e le opere d'arte contemporanee che vanno in esse ad inserirsi, ed è una continuità di messaggio, di annuncio evangelico. Proprio come nel desiderio di Paolo VI, poi seguito dagli altri pontefici, la Chiesa in qualche modo non rinuncia ad un dialogo con gli artisti. È consapevole che l'annuncio passa attraverso le forme anche nuove di espressione artistica. E quindi se Custos rimarrà qui, esposta fino al 7 di luglio, ci sono poi invece altri artisti che rimarranno all'interno di questo spazio, di questa ascesa verso la cupola della cattedrale in modo permanente. Mi piace ricordare una bellissima croce di Bargoni, una cena di Emos di Cristi e Zucconi, e poi qui, all'interno di questo spazio, realizzato lo scorso anno, questa passarella che ci porta dalla cupola fino alla croce rifacciata. Abbiamo pensato di collocare fuori, all'esterno, realizzando poi delle finestre, dei tagli all'interno di queste tavole. Abbiamo pensato di allestire le sette ultime parole di Cristo in croce di Corradini, che saranno appunto visibili attraverso delle feritoie. E poi scendendo, ancora all'interno del campanile, alcune opere del compianto Perotti, che tanto ha lavorato per le chiese della nostra città e della nostra diocesi, e che all'interno del campanile ha voluto donare tre sue sculture. Ma di tutto questo parleremo le prossime volte. Per ora l'invito è a venire a visitare questa ulteriore mostra nella mostra, un evento nell'evento, Custos, che appunto inaugura a partire dal prossimo lunedì.